Oggi ci sono cristiani assassinati, torturati, sgozzati perché non renegano Gesù Cristo. In questa storia arriviamo al nostro Persac. Lui fa parte di questa catena di martiri. Ha dato la vita nello stesso sacrificio di Gesù sull'altare. Da lì ha accusato l'autore della persecuzione. Vattene Satana. Dobbiamo pregarlo, che ci dia anche il coraggio di dire la verità, uccidere in nome di Dio e Satana. Che ci dia l'amitezza, la fratellanza, la pace. Non c'è nessuno di marino. Grazie a tutti